Si chiama Lucifero ed ha portato in tutto il paese temperature record che superano anche i 40 gradi. L'ondata di calore portata dal temibile anticiclone africano proveniente dal Sahara algerino ha colpito anche il territorio aretino con temperature che potrebbero superare i 40 gradi e con una massima nella giornata più torrida prevista per mercoledì di 40-42 gradi. Dunque anche per Arezzo si prospetta una settimana nella morsa di Lucifero. Ovviamente come tutti gli anni c'è stato un incremento delle chiamate per i malori legati alle elevate temperature, al caldo prevalentemente da parte di persone anziane. Anche se probabilmente un po' perché il caldo sta perdurando da tanto tempo, un po' perché forse l'informazione e l'educazione dei cittadini sono state messe in atto delle manovre preventive, diciamo che per quanto caldo sta facendo non c'è un incremento così preponderante. Massima attenzione ovviamente nei confronti delle categorie definite fragili. Ovviamente i bambini e gli anziani, ma negli anziani soprattutto quelli con pluripatologie. Quali sono i consigli per far fronte a questa ondata di caldo intenso? Ovviamente nella vita quotidiana bere tanto, evitare l'esposizione al caldo, quindi stare fuori nelle ore più calde che sono la maggior parte delle ore della giornata, ma soprattutto evitare il passaggio da luoghi con temperature diverse, quindi da il caldo dell'ambiente esterno a luoghi condizionati, perché può dare proprio il malore a questo sbalzo di temperatura, o all'incontrario uscire da un posto fresco per andare in un ambiente caldo, bere, evitare di bere bevande troppo fredde che pare diano sollievo ma in realtà hanno l'effetto opposto, e in casa cercare magari di mantenere gli ambienti freschi, arieggiandoli la notte quando le ore sono più fresche, o possibilmente utilizzando dei sistemi di condizionamento e ovviamente l'esposizione diretta al sole assolutamente da evitare.